minchia friarie e lomeni nuovo supereroe ma stai zitto che almeno io ci ho provato a salvarti e poi che cazzo ci facevi qua dentro e chi è questo lui si chiama sh che bel nome ciao allora vi volete stare zitti sì o no ha detto il capo che ogni vostra parola è un proiettile in fronte senti bello quando vuoi cosa tengo quattro milioncini li vuoi quanto quattro milioncini oh cacchio sì te li do li voglio li voglio ti slego e slegami così li prendo peppe non si fa dove sono i quattro milioni perché non me li dai tu a me visto che li tieni ok bravo è stato bellissimo ma adesso tu mi devi riusci devi slegare peppe muoviti sì sì muovi slego coglione capo che cacchio urli non ci sono più sono spariti tutti e tre c'era solo un cadavere valli subito a cercare io me ne vado minchia ma che capo di mer venite con me dobbiamo muoverci perché dove cacchio stiamo andando a casa dobbiamo raggiungere l'ultimo piano andiamo all'ascensore sì l'ascensore è il punto dove quell'altra volta mi volano fare il culo non arriva qua questa volta siamo in tre bene così moriamo tutti e tre assieme esatto mela vado corri eccomi ciro ho trovato altre munizioni in che senso è arrivata una telefonata come me l'hai pepe su nel grattacielo più alto della città come c'è un cattivo che si chiama z come è lui che sta creando i mostri e me l'hai pepe sono là dentro che lo vogliono ammazzare assieme a un tizio che si chiama gente e va vecino però ma fammela breve dobbiamo andare a dargli una mano quindi andiamo 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 e vaffanculo allora ragazzi li ho chiamati stanno arrivando va bene che chiami i tuoi amici per farci dare una mano ma ricordati che questa è una situazione mia che sto combattendo da quattro anni contro quel tizio è una missione segreta prima di tutto tu sei da solo che cazzo di missione è in realtà io c'ho un capo wow e chi è fatti i cazzi tuoi forse andiamo andiamo ad aspettarli di là in un posto sicuro sto tizio non mi fido io invece si perché? perché lo sai perché mi fido di lui ma mi fido tanto perché? perché mi sta regalando un sacco di armi che io posso sparare i nemici minchia se dopo ti faccio vedere sott'aggiupottando i proiettili tengo l'arsenale americano vaffanculo è l'americano Ciro l'edificio è questo qua e a quanto pare c'è stata pure una festa chi cazzo? c'è pure un mostro morto c'è un altro cazzo minchia si sono divertiti mele e peppe e allora andiamoci a divertire pure noi andiamo Ciro spacchiamo il culo a tutti ciao ciao